Un weekend diverso per il basket pesarese. Un weekend di Coppa dopo nove anni di attesa. La splendida stagione di rilancio della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro passa ora sotto i riflettori del forum di Assago, dove la VL è fra le splendide otto interpreti delle fan a ele di Coppa Italia. Il quarto di finale è noto da tempo. La VL se la vedrà con il Banco di Sardegna Sassari, venerdì 12 febbraio con palla a due alle 20.45. Coach Yasmin Repesha se la vedrà dunque col collega Gianmarco Pozzecco, con cui ha condiviso gioie e attriti sul parquet, come ricordato nella conferenza stampa che al Mediolanum Forum milanese ha riunito gli otto allenatori delle squadre che inseguono la Coppa. Per noi è veramente un grande piacere fare parte di questa fan alla IT, come una squadra che secondo me meritando è qua. Arriviamo come outsider più grande, ma con pieno merito e nello stesso tempo senza bandiera bianca. Vogliamo di nuovo, un'altra volta sfidare se stessi, vogliamo competere contro ognuno qua, come fino adesso. Come si vince? Si vince chi ha modo giusto, chi arriva in più grande forma, con meno problemi, con più fiducia, con connessione e determinazione, sicuro con una preparazione a altissimo livello, sia tecnica, fisica, ma soprattutto mentale. Perché sappiamo in tre giorni giocare tre partite, vincere tre partite, prima di tutto ci vuole una concentrazione a altissimo livello. La Pesaro del basket riceve anche un in bocca al lupo molto speciale per questa spedizione, quello di Darrendei, uno dei cestisti biancorossi più amati di sempre, che è intervenuto alla trasmissione Insieme a Canestro di Rossini TV condotta da Marco Cadeddu e che è anche stato l'ultimo a vincere la Coppa Italia con la Scavolini nel 1992. Da Los Angeles Day ha messo la sveglia alle 4 di mattina per sintonizzarsi su Skype sul fuso orario pesarese di Insieme Canestro e ricordare quanto forte batta il suo cuore biancorosso.